Tu lo sai che con questo video ci sputtaneremo pesantemente? Perché? Eh, perché c'è stanno cose che voi umani non avete neanche mai potuto immaginare Del tipo? Del tipo, che mo ti faccio vedere? Buono ragazzi, siamo i Granas! Sempre qui nel nostro magnifico splendore Ovvero, nessuno! Belli, veramente! E siamo tornati qui con un nuovo video E tu hai tornato in segretamente, incredibilmente in segreto! Oggi andiamo a leggere dei segreti che Vi invitiamo a chiudere il video Ma che cazzo ho detto? Vi invitiamo a chiudere il video se siete minori di 18 anni Perché ci sono dei segreti veramente molto spinti ragazzi Cioè, proprio qua si va sul coso, capito? Cioè, sulle 50 sfumatore di grigio qua andiamo, eh Esantemente, sì E andiamo a leggere i segreti su di noi Perché ho stato detto sotto un video Che sono stati aggiunti un sacco di segreti in questi ultimi mesi Perché prima non c'erano Prima non c'erano, ce ne stavano tipo due Adesso ce ne stanno un botto Abbiamo trovato tipo sei pagine Un me ne sono letti due treppe, curiosità E ho visto che sono molti di ragazze Che o ce l'hanno con lui o ce l'hanno con me In senso Lato Comunque andiamo a leggere questi segreti Io direi ti dividi e fai punteggi E tipo fa Me e te Se il segreto riguarda te Punto per me No Se il segreto riguarda te Punto per te Se il segreto riguarda me Punto per me Ovviamente Ok Sì Leggiamo il primo Sono lesbica Eppure quando vedo Mateus de Grananas Mi assale una voglia assurda di farmelo È troppo buono Cioè tu converti gente praticamente qua Sì A 24 anni E ripeto Cioè io ho sempre Non so se già ve l'ho detto Ma ho sempre bisogno di trombarmi una lesbica Quindi palesati per favore Da qualche parte Grazie Ciao Davide Grananas è un freno Dei hand Cioè nel senso che lei Lei in macchina rispetto a tutti i miei di velocità Perché guarda mia Capito Sono un freno della madonna Cioè è meglio di quelli De base Da bmw Comente Sono meglio di Vabbè Sono un freno cazzo È un freno della madonna Ogni volta che vedi i loro video Fisso sempre lui Poi guardo sempre Ma questo è un uomo comunque Volevo far nuotare Io non me ne raccomando Ah ma è un uomo Ma non me ne raccomando Ma neanche io Me ne raccomando Aspetta Vabbè si è sbagliato palesemente Sì 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 È palesemente un freno Non palesarti comunque Sono contento di essere un freno E non un freno Poi guardo sempre un video di Frax Dove c'è Davide Appena uscito dalla doccia Una parte dove si mette le mutande Ma viene insurato con una pera Ma a me piace Che c'è Oh io mi piaccio Mi piaccio C'è E tu no No ma Te non guardi i tuoi video Non c'è un video che esco dalla doccia Non c'è un video che esco dalla doccia Non c'è un video con una pera davanti No Ringrazio da parte sua per il freno Freno for the win Comunque 1 a 1 Cioè vale 1 a 3 Guarda io ti darei due punti Dai Doveli prendo No vabbè Quando mi masturbo Penso a lo youtuber polacco Vabbè Grazie Matteo Si polacco Donna di 16 anni Una volta mi sono fatta tutte e due Gli grananas E uno lo ha piccolissimo A tal punto da non vederlo proprio Comunque non si siamo fatti nessuno Tutte e due insieme Cioè no Né insieme Né insieme Né separatamente Quindi è fake Mi dispiace Non sei vera Donna di 17 anni Adoro follemente le persone romane Perché loro accetto Me esci da da pazzi Volta la troia Inutile dire Che passo ore e ore Ore e basta No ore e ore Passo ore A vedere i video dei grananas Perché Essendo anche fighi Da paura Portano alla mia mente Pensieri non tanto puri Mateus e David Cosa vi farei? Qui si pareggia Uno e uno Sono praticamente ossessionato a Youtube In questi giorni sono fissato con i grananas Particolarmente con Mateus No è per Kenick Cazzo gliela darei volentieri Un figlio di una madonna Guarda David Sì parlo con te Perché se il mio Rifiuto l'offerta e vado avanti Mi dispiace Cerco di giocare un po' di più E comunque 3 a 2 Penso di essermi innamorata di Oh vaffanculo Passiamo su 24 21 anni Vedi che andare avanti Dei granas Mi sono guardata Quasi tutti i loro video Solo per vedere lui Mi sento come quelle ragazzine Innamorati di favigiaio Altri youtuber Se Dio che vergogna Però metti like Per favore i video Così almeno Fatti Uomo di 16 anni Meno male Questo non parlate meglio Una volta Mentre guardare i video di granas Mi sono cagato Adesso Vabbè capita Cioè alla fine Noi conciliamo La merda Sì sì Facciamo cagare Capita Fissa per Matteo C'è dei grananas Frinzoni Tutti con la stessa frase Scusa ma ti chiamo amore Ma non sei Xenic Giorno a 17 anni Sogno di fare un trisount Con i grananas Sono degli youtuber Non molto conosciuti Ma ci esco pazza Ma pazza cuno Spero per Xenic Lo sono pazza Ma ogni sera Prima di dormire Mi faccio lunghi Primentare i rapporti Di sesso estremo Con loro Lo sono Lo sono pazza Lo sono Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so pazza Comunque Pari Sì È un pareggio Sì a tre Uomo di 17 anni Ci masturbo sopra Viva i grananas Donna di 18 anni Ho sognato di scopare con Daryl Dei grananas È il sogno più bello della mia vita Però mi sono svegliato Sulla parte più bella Spero di continuarla E continualo Siamo 6 a 3 18 anni poi Continuamolo Continuate insieme Tutti Allora Donna di 15 anni Il mio segreto È che Davide Attenzione si recupera Il mio segreto è che Davide grananas Mi attizia da morire Quando vedi il loro video A volte mi bagno E mi immagino cose assurse Assurse Forse è un problema Però alla patata Non si comanda Giusto Alla patata Non si comanda È un nuovo detto Questo è un nuovo detto Del 2016 Cioè Dei nostri giorni Sì 16 anni Faccio sogni erotici Su Xenic Quello di grananas Senza peste È bello sempre che so Il polacco di grananas Quello di grananas Grazie Ho fatto più volte Sogni erotici Con Daryl De grananas Aiuto Perché Può dire Aiuto Che qualche problemi C'hai Perché se ne è pentito Guardo spesso Il video di grananas Ogni gollo è un cubetto di ghiaccio Perché Xenic mi accida Quando mette il ghiaccio Ne mutande E fa quei versi Ma che cazzo Xenic mi accida tantissimo Ma l'ho scordato io Perché metto il ghiaccio Ah sì è vero Che dolore Sono follemente innamorato Di uno youtuber Lui è Xenic dei grananas Sono talmente innamorata Di lui Che ho il telefono E il tassato Di sue foto Vorrei farlo Con uno dei grananas Uno ho scelta Sono degli youtubers Ah ok E quindi è per quello Che vorrebbe farlo 18 anni Credo di essermi innamorata Dello youtuber Daryl dei grananas Non tanto per la sua fama O cose simili Ma semplicemente Aspetta qua ce l'ho La musichetta sotto però Musichetta Emotional Credo di essermi innamorata Dello youtuber Daryl dei grananas Non tanto per la sua fama O cose simili Ma semplicemente Guardando i video Che gira insieme a Xenic Ho notato Che abbiamo parecchie cose In comune E quando ride È la fine del mondo E la cosa che mi manda In bestia È che probabilmente Se io lo dicessi Non farebbe differenza Perché chissà Quante persone Sono nella stessa situazione Fa anche il rimone Certe volte Internet Non aiuta proprio Vabbè però dai È da apprezzare Perché lei ha scritto Più di due parole Del tipo Voglio scoparmi Non la diventa anni Essendo in piena Sessione invernale Dovrei essere chiusa Sui libri a studiare Chiusa Va bene Io voglio questa chiusa Chiusa sui libri Dentro i libri Chiusa sui libri E invece vi ritrovo qui A luna di notte A guardare i video di Granas La verità è che Darryl È così bello Ha degli occhi Un sorriso fantastico Chissà che oltre Ai loro video Riesca a vedere anche Un 18 Si alza la sticella Eh Sì 38 Uomo di 38 anni Attenzione Sono sposato E una figlia di 15 anni Un giorno ho visto Mia figlia che vedeva Due ragazzi su youtube Che facevano morire Da ridere Il loro canale Si chiama Granas Da quel giorno Mi vedo ogni loro video No dai no Il segreto Perché Perché inventate Queste cose Perché poi vengo Pensando a loro Sono troppo arrapanti Dai questo è fake Ma lo spero Perché sinceramente Ma commenta Non è vero solo io Sì ma lo sai che Che avere c'è un padre De famiglia Che si masturba Sulla mia faccia È brutto Sì È da un po' Che seguo i Granas Su youtube Ad ogni video Mi innamoro sempre di più Di Xenic Amo troppo il suo carattere Darryl invece Me lo farei qualche volta Grazie Vabbè Non ci ha sprecato Non ci ha sprecato Troppo Ho paura di dirlo Alle mie amiche Perché non so Come reagirebbero Ragazzi Vi adoro Siete il mio sorriso Non smettete mai Adoro i Granas Oggi come oggi Mi sembra Ognuno i sui youtuber Italiani Che davvero Non hanno maschere PS Sono segretamente Innamorato di David Un altro punto per me E noi non abbiamo Per niente maschere No Noi facciamo video Soltanto per voi Perché ci teniamo Vorrei farmi di brutto Xenic dei Granas Peccato che non saprà mai Che esisto Tranquilli Non mi masturbo Con i vostri video Eh no Allora niente Non mi devi manco contattare No 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 Non devi manco scrivere Ma che sei io Da dove vieni Da Marte Che non te masturbi Sui nostri video Eh Infatti quella dopo Infatti mi masturbo Su Xenic Vedi la gente regolare E giusta Nel mondo Che combatte La fame Troppo figo Con quel cappellino Dell'hobei Che ho buttato Vorrei che mi sfondasse Con il suo cazzo Paraco Che cazzo Non ci avete Vabbè guarda che Ti avverto Cioè È sempre un cazzo Non è che c'è la bandierina Della Polonia No no È tatuato Tranquillo C'è la bandierina Della Polonia Sì 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 C'è scritto Welcome to Polonia No è troppo lungo Mi sa Welcome to Polonia Cioè al massimo C'è scritto PL Cioè No no L'ho scritto in polacco Donna di 18 anni Sono volamente pazza Di Grananas Due youtubers Sono simpatici Sorali Originali Prima di addormentarmi Guardo sempre Il loro video E spero che un giorno Riuscirò ad incontrarli Figa Uomo di 17 anni Ultimamente ho iniziato A guardare i video Di Grananas Darryl E che cazzo Però È talmente bello Che ogni tanto Guardandomi Ma assurbo Che goduria Quell'altro Invece è un po' bruttino E Grananas Fanno schifo Bella a tutti Lecchi dravani Questo è un bipolare Bivolare come Brad Pitt Allora io ho connessionato Ben due uomini Tu hai collezionato Tutte donne Però qualcuna Anche tu È un'esplica Cioè In più di me Io però c'è due uomini Quindi vinco io Due a uno Allora Vince lui Almeno per la Per la categoria Etero Ince lui Per la categoria Gay Vinco io Per la categoria Under 18 Non lo so Dati inventati Va bene Poi controlleremo Tutto Per la categoria Masturbazione Compulsiva L'Oscar va a lui Sogni erotici Per la categoria Categoria Sogni erotici Io Per la categoria Innamoramento Pani Dati puramente casuali Ogni riferimento È puramente casuale Comunque ragazzi Se questo video Di segreto Vi è piaciuto Lasciamo Ed arriviamo A 5.000 like Almeno Almeno Perché a 10.000 like Se nel frattempo Saranno aggiunti altri segreti Ne faremo un altro Penso che sia tutto Ci becchiamo al prossimo video Come sempre Con un video di segreto VELLA Grazie a tutti.